Grazie, onorevole Corrao, prego. Grazie Presidente. Giulio Reggeni era un ragazzo europeo, un ragazzo spinto dalla voglia di contribuire alla costruzione di una società migliore, di una società libera. Il suo lavoro di ricerca lo ha portato a maneggiare argomenti scomodi per le autorità egiziane, verità pericolose, sistematicamente oscurate dai media e dalla politica. Il suo desiderio di dar voce a chi non ne può avere lo ha condotto ad essere barbaramente torturato ed ucciso, in circostanze che sono ancora inaccettabilmente oscure. Giulio Reggeni poteva essere nostro fratello, vostro figlio, vostro nipote, un ragazzo europeo assetato di verità. L'Unione Europea deve assumere, nonostante i fortissimi legami con l'Egitto, una posizione ferma e decisa che ci porti a chiedere chiarezza sulle circostanze della morte di Giulio Reggeni. Perché non deve restare alcun dubbio sul fatto che, affinché non ci sia nessun dubbio, che il potere e gli interessi, l'odore del potere e gli interessi coprano la puzza del sangue Reggeni. Questo cartello lo dedichiamo ai suoi amici e ai suoi familiari. Verità per Giulio Reggeni.